Ebbene sì, finalmente ragazzi, ragazze, ragazzo, siamo giunti al video più atteso di questo inizio anno perché ve l'ho promesso dal 31 gennaio ma in realtà ci hai fatto attendere ma ho qui tra le mie mani il libro di Hilary Blasi, che stupida la mia verità Ovviamente l'ho letto, ovviamente ci andremo a fare l'analisi logica e grammaticale perché le cose al suo interno sono tante C'è da dire che se voi avete seguito tutti i miei Spill the Tea with me, Cristiano Cervigni dedicato alla faccenda Hilary Blasi e Francesco Totti questo libro non dice niente di nuovo, niente di quello che non sappiamo ma anzi lo va ad approfondire e leggendolo possiamo capire il punto di vista totale di Hilary Blasi cosa che durante il suo documentario su Netflix Unica è passato un po' in sordina nel senso anche lì era sempre Hilary a parlare ma in quel caso, in quel contesto si sono soffermati più su determinate cose che hanno tralasciato in questo libro per esempio il famoso ragazzo del caffè anche se quel famoso caffè diciamo che è stato l'inizio della fine anche in questo libro ma mettetevi comodi, andate a prendere il vostro snack o drink preferito e ritagliatevi un'oretta di tempo perché sono sicuro che questo video come tutti quelli che noi facciamo riguardante i libri delle celebrities durerà tantissimo e ne approfitto per mandare un saluto a Hilary Blasi ciao, ti amo, io sono dalla tua parte ovviamente e vorrei venire a fare un giorno shopping con te lo dico nella remota possibilità che lei possa guardare questo video source iniziale, bando alle ciance, ciance alle bande andiamo a vedere di cosa parla, che stupida anche se faccio un piccolo PS la narrazione di questo libro mi è piaciuta molto ci sono fatti appunto presenti ma ci sono anche dei capitoli che ripercorrono tutta la storia di Francesco e Hilary come si sono conosciuti con il matrimonio, i figli e tutto quanto l'unica cosa è che questi salti temporali avvengono tra un capitolo e l'altro nel senso, un capitolo parla del 2022 il capitolo dopo parla del 2001 poi riparla del 2022 e poi parla del 2004 e io dico, ok, le pagine che ripercorrono tutta la storia tra Hilary e Francesco ci servono nel libro per poi capire l'ultima parte per sbusiardare, tra virgolette tutto quello che poi andrà a dire Francesco Totti durante la separazione ma io non li avrei messi in questo modo avrei fatto più una sorta di narrativa temporale iniziando dall'inizio e poi a mano a mano finendo con la fine facendo così in questo modo, dove in un capitolo mi parli dei Rolex e il capitolo dopo mi parli di Flavia Vento che dice in televisione prima del tuo matrimonio che è stata con Totti perdo un attimo il filo del discorso non so se mi spiego il fatto è che ogni capitolo del presente finisce che ti lascia con la voglia di sapere e poi inizia un capitolo dopo che parla di tutt'altro è quello che non mi è piaciuto molto però detto questo io vi andrò ovviamente a riassumere un po' tutto il libro faremo anche delle letture ma mi concentrerò più sul presente ok? perché è la cosa che ci interessa comunque se anche voi lo avete letto fatemelo sapere qua sotto tramite commento il libro di Ilari inizia con un precapitolo che è intitolato E invece dove è descritta una classica serata in casa di Francesco e di Ilari dove però a un certo punto Francesco rivolgendosi a Ilari dice Amo e lei dice Francesco non ti ho visto arrivare non sapevo fossi già tornato pensavo di invitare Giorgia e Angelo a cena che ne dici? Ti va? Amore risponde Francesco c'è un problema che tipo di problema? com'è possibile? morte a parte tutto si risolve sentiamo che problema è? e Francesco le dice eh mi sono innamorata di un'altra lei inizialmente scoppia a ridere e lui ripete Ilari non sto scherzando mi sono innamorato davvero a questo punto lei è piena di domande vorrebbe domandargli chi è come si chiama com'è successo dove l'hai conosciuta quando ci siamo persi ma tutte queste domande devono essere rimandate perché quello che conta veramente è proteggere a questo punto i figli da tutto quello che succederà quando questa notizia uscirà fuori quindi risponde Francesco grazie di avermelo detto e lui aggiunge il solo pensiero che potessi scoprirlo dai giornali insopportabile esatto bravo che ti devo dire se me lo stai comunicando è perché sei convinto altrimenti non ne avremmo nemmeno parlato che vuoi fare? andare a vivere da lei? hai già telefonato all'avvocato? e lui non risponde Francesco cerca di capire anche me non puoi venire in cucina a dirmi che ti sei innamorato di un'altra e pensare che sia finita lì e ai ragazzi per esempio chi glielo dice dobbiamo dirglielo insieme è chiaro e lui risponde sei sempre stata l'unica e lei per oggi basta così d'accordo? e ancora forza Francesco andrà tutto bene abbiamo fatto tre figli tante di quelle cose insieme affronteremo anche questa un inizio shock direte voi raga non è quello di cui abbiamo parlato per anni e infatti il libro continua se fosse andata così il libro che avete tra le mani sarebbe stato lungo dieci pagine indice incluso ero convinta ci avrei giurato che noi due saremmo stati un'eccezione quanto alle modalità credevo l'avremmo fatto con rispetto con amore e invece ragazzi questo secondo me questa prefazione è come Ilari Blasi avrebbe voluto scoprire il tutto ma in realtà come ben sappiamo e come lei ci ha anche ripetuto non è andata così e qui inizia il vero libro con il primo capitolo intitolato Un vestito nuovo del 2021 lei praticamente scrive che in poche parole ha passato metà della sua vita insieme a Francesco tre anni da fidanzati diciassette da sposati avevo passato con mio marito la metà esatta della mia vita eppure non mi sembrava era stato tutto così veloce e in questo periodo diciamo che lei inizia a sentirsi strana no? prova delle sensazioni che non aveva mai provato fino a questo momento aveva passato tanta roba insieme a Francesco avevamo imparato ad essere insieme genitori spesso le questioni pratiche le dirimevo io ero io a incontrare le maestri a scegliere la scuola e la tata a comprare i vestitini a organizzare l'intervento dell'idraulico e dell'architetto ma anche le scene con gli amici a stabilire la meta per le vacanze a prenotare gli alberghi in compenso però la chiesa per il matrimonio l'ha individuata lui la nostra casa l'aveva immaginata e poi fatta costruire lui di figli ne avrebbe fatti altri tre o quattro e comunque per lavoro doveva cercare di stare con la testa a sgombra quindi il carico mentale era tutto mio però andava bene così avevamo un nostro equilibrio ero in treno verso Milano quando realizzai che tutta quella stanchezza poteva dipendere dal fatto che mi sentivo sola era una sensazione nuova e sgradevole io stavo per compiere 40 anni lui 45 volenti o nolenti eravamo cambiati e il vestito che c'era calzato a pennello fino a quel momento sembrava improvvisamente stretto e fuori moda lei si rende conto con l'arrivo dei 40 anni che comunque essendo sempre circondata da amici da parenti dalla famiglia è un periodo in cui si sente sola è un periodo in cui si accorge che il rapporto che ha con Francesco sta cambiando che non è più ovviamente quello di 20 anni fa ma invece di sentirsi scoraggiata o pensare che c'è qualcosa che non va potrebbe finire tutto da un momento all'altro perché siamo cambiati noi come persone lei vede questo come una prova come una nota positiva anche perché poteva essere un momento per evolvere il loro rapporto perché comunque Francesco non giocava più a calcio e quindi era più libero i bimbi erano comunque abbastanza cresciuti e quindi erano anche più indipendenti potevano approfittarne per evolvere ennesimamente il loro rapporto e per stare anche più insieme per iniziare un nuovo capitolo del loro matrimonio le premesse c'erano tutte infatti scrive eravamo ancora giovani per la prima volta nella nostra vita eravamo liberi di essere solo noi stessi mio marito non era più obbligato ad una routine massacrante di sacrificio fisico e mentale i figli erano più autonomi potevamo pure pensare di lasciarli qualche volta in più ai nonni o alla tata dedicarci a noi o organizzare quel viaggio che non avevamo mai fatto uscire a cena da soli come fidanzatini non lo facevamo da chissà quanto e improvvisamente ne sentivo un estremo bisogno lei in questo momento sta facendo l'isola dei famosi due volte a settimana l'isola dei famosi viene registrata a Milano lei invece con Totti sta a Roma e quindi fa in su e in giù fa da pendolare tutte queste settimane era una cosa che comunque le pesava molto ma per stare più insieme alla famiglia e soprattutto anche per ritagliarsi un po' la quotidianità della casa a Roma fa molto volentieri e in occasione dei suoi quarant'anni in occasione del suo compleanno lei avverte Francesco e dice guarda io quest'anno non voglio fare niente di spettacolare non voglio fare feste voglio semplicemente passare un compleanno insieme io, te e i nostri figli nella tranquillità della nostra famiglia ma voglio stare noi lei dice così perché Francesco è famoso per aver organizzato tante feste tante sorprese le più disparate e quindi lo avverte e dice guarda aspetta siccome so come ragioni e so quello che vuoi fare ti avverto e ti dico che questa volta voglio stare tra di noi ovviamente lui fa di testa sua e organizza un mega party con famiglia amici e chi più ne ha più ne mette e poi volano a Monte Carlo e passano un weekend da sogno lei nonostante questo weekend da sogno comunque rimane un attimo spiazzata e anche un po' delusa perché non riesce a capire come mai Francesco non l'abbia ascoltata perché non aveva usaudito il mio desiderio non capivo ne parlai più volte con mia sorella e con Alessia la mia più cara amica ricordatevi di Alessia ne abbiamo già parlato in Spilling the Tea più e più volte Alessia praticamente sarebbe la sua makeup artist personale ma è anche la sua migliore amica e Alessia c'entrerà anche un pochino almeno per quanto riguarda la versione di Totti ti porta a Monte Carlo e hai anche il coraggio di lamentarti non era questo si era comportato come aveva sempre fatto il risultato era stato stupendo però mi era arrivato un messaggio diverso da quello che avrei sperato di ricevere forse a lui va bene così riflettevo forse si tratta di un bisogno soltanto mio il bisogno di evolvere la loro relazione il loro matrimonio come vi avevo detto poc'anzi e subito dopo rabbrividisco e se dovessi scoprire che a me non va più bene decisi di dare tempo al tempo a giugno dopo l'ultima puntata dell'isola brindammo per il nostro anniversario sulla terrazza di Vios Cooking a Palazzo Taverna auguri a noi e sono 5840 tutti i giorni trascorsi insieme dal sì poi vanno a Mosca lui lei e i figli è stata una vacanza questa molto carina perché dice era anche un regalo inaspettato grazie al quale abbiamo girovagato liberalmente tutti insieme come comuni turisti e poi rientrano in Italia a luglio vanno in Sardegna le solite cose insomma perché dopo la Sardegna vanno nella sua casa in Sabà a Sabà a Udia e lei dice tutto come sempre in apparenza ero solo un po' meno effervescente un po' meno mondana ridussi il numero di scene con gli amici aumentai quello delle serate in famiglia speravo di stimolarlo a chiedermi il perché mio marito non è mai stato un uomo dai grandi discorsi parlare per ore nella gioia nel dolore nel romanticismo come nella quotidianità non fa per lui lo sapevo ovviamente però volevo che fosse lui a fare il primo passo sapevo che ne era in grado all'inizio della nostra storia aveva fatto tutto lui mi aveva visto in televisione aveva trovato il modo di conoscermi poi mi aveva corteggiata conquistata e sposata travolgendomi con il suo desiderio di me non mi aspettavo la stessa passione dei vent'anni per carità ma che per una volta fosse lui a sforzarsi di intavolare una conversazione su di noi sì poi avrei proseguito io parlando per due chiarendo e trovando una soluzione accettabile per entrambi ma per arrivare lì avevo bisogno di una sua mezza frase invece scelse di far finta di niente per la serie le passerà sarà un periodo invece il periodo non passava il 27 mio marito compì 45 anni a causa di un impegno non riuscì ad organizzare niente di particolare per quella sera in compenso il giorno successivo decollamo per Parigi per due giorni interamente dedicati ai festeggiamenti di fatti stavo per arrendermi dovevo solo far digerire al mio orgoglio che se volevo confrontarmi con mio marito tanto per cambiare l'iniziativa l'avrei dovuta prendere io solo e qui iniziano i cambiamenti che poi mi trovai dentro casa un uomo diverso ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco la mattina dopo mi svegliai con uno che riasomigliava molto ma non era lui schivo distante assente in cerca di pretesti per uscire una scena con gli amici una partita a carte o a calcetto il padel gli lasciai qualche giorno per bollire ma cominciai a percepire che ce l'aveva con me sembrava quasi offeso in poche parole raga perché vi ho letto tutto sto ambaradam perché il libro inizia con la voglia di Ilari Blasi e soprattutto la necessità di Ilari di evolvere il proprio rapporto con Francesco perché sembrava il momento giusto ma al tempo stesso Francesco vedendo il cambiamento di Ilari fa tipo finta di nulla ok e a novembre di punto in bianco fa lo switch lui e da marito comunque amorevole nonostante fosse di poche parole diventa schivo diventa distante fino a quando appunto lei inizia a capire che Francesco ce l'ha con Ilari Blasi una sera attesi che mi raggiungesse a letto e provai ad indagare tutto ok rispose frettoloso cambiai allora strategia provai la sua far finta di niente qualcosa c'era non riuscire a capire che cosa era quel tarlo che mi accompagnava in ogni secondo dal mattino quando mi alzavo e preparavo la colazione ai ragazzi alla sera quando gli amici ci raggiungevano per mangiare qualcosa e fare una partita di carte stavamo tutti bene la casa era ancora in piedi non c'era in atto alcun dramma semplicemente mi ignorava se organizzavo qualche serata con gli amici stava a casa altrimenti preferiva scenare fuori rientrando tardi non poteva essere una questione di lavoro e nemmeno un turbamento intimo o personale ce l'aveva con me a novembre quindi organizzai un aperitivo solo per noi e qui lui riesce un po' a sbiaccicare il fatto che il problema secondo Francesco Totti era l'Instagram di Ilari Blasi quindi il problema sono le foto che posto? no le foto non erano un problema in sé per sé era il fatto che dedicassi un po' più di tempo e di attenzione al mio profilo a dargli fastidio vabbè provai quindi ad approfondire il collegamento tra Instagram e il suo malumore continuava a sfuggirmi amo ovvio è una scusa ma Francesco chiuse la conversazione dicendomi che sapevo benissimo perché le due cose erano correlate quindi si alzò e se ne andò lasciandomi seduta a riflettere avevo ragione era arrabbiato con me insomma qui Ilari Blasi inizia a capire che Francesco ce l'ha con lei ma per un fatto che non riesce a capire cosa ci rincastra l'Instagram cosa ci rincastra il fatto che io pubblico le foto con questo suo distacco improvviso proviamo a Natale a chiedergli di fare un weekend romantico tutto per noi e lui declina e nonostante questo lei era sempre più convinta del fatto che questa difficoltà poteva essere un'ulteriore prova dell'evolvere del volere del poter evolvere il suo matrimonio e infatti lei poi scrive il destino ci stava presentando questa difficoltà benissimo toccava a noi trasformarla nell'occasione giusta per muovere un passo avanti insieme tutto stava nelle storcergi se così si può dire il vero motivo del suo malessere nonostante questo lei continua a chiedere a Francesco ma che cos'hai perché ce l'hai con me Francesco continua a dirgli guarda ancora non tu l'ha capito è Instagram il motivo del mio malessere sei te perché usi troppo Instagram ma in tutta Roma iniziano ad uscire delle notizie per quanto riguarda la crisi del loro matrimonio tutte prontamente smentite da lei anche quando la chiamano i suoi amici dicono ma Hillary ma tutto bene lei dice sì sì tutto bene perché non mi ha successo nulla di che tra le altre cose dopo le telefonate che ha ricevuto Hillary da parte dei suoi amici va anche ad affrontare Francesco dicendo amo qui sta succedendo qualcosa non è che hai parlato con qualcuno del fatto che boh sei arrabbiato con me e lui risponde ma che dici no non ho parlato proprio con nessuno e lei a questo punto gli dice forse perché esci spesso per conto tuo che ne pensi magari la gente poi pensa che ci sia qualcosa che non va e lui invece risponde così secondo Francesco queste voci non sarebbero state causate dalle sue frequenti uscite piuttosto dal mio profilo Instagram ancora con sti social ma che problema c'è se pubblico qualche foto ogni tanto è una cosa che devo fare anche per via del mio lavoro allora è bellissimo il fatto che io vi leggo le parole di Ilari che lei è ciosciara romana in toscano adoro una cosa bellissima le uniche spiegazioni che riuscì a cavargli di bocca furono che stavo troppo su Instagram e che a causa di questo ero diventata fredda a un certo punto persi quindi la pazienza Francie senti non devi trattenerti non devi inventarti niente dobbiamo dirci la verità come abbiamo sempre fatto tu stai soffrendo mi pare che sia a causa mia ma come faccio ad aiutarti se non ne capisco il motivo misi quindi tutte le tarte in tavola non riuscivo a scoprire le ragioni del suo malessere ma quella serata poteva essere la prima di tante se solo fossi riuscita a fargli immaginare il futuro che vedevo per noi gli presi la mano possiamo fare uno switch se solo lo vogliamo ma tu sei pronto perché se lo voglio solo io se tu su questo pezzo di strada non mi vuoi accompagnare come faccio svio come tutte le altre volte in cui avevo tentato un confronto se lui soffriva era a causa mia ero io a essere più fredda meno allegra meno disponibile a svagarmi in compagnia e stavo troppo sui social parlavamo due lingue diverse e qui ragazzi inizia un altro capitolo il capitolo sei unica e qui insomma c'è scritto tutto il loro primo incontro di come Francesco ha preso la sorella di Ilari pregandola quasi in ginocchio di fargli conoscere Ilari Ilari però al momento era fidanzata con un altro e addirittura ci aveva poi alla fine iniziato una convivenza lei dice per forza di ose perché comunque io lavoravo a Milano e quindi dovevo prendere una casa in affitto a Milano ma le disponibilità economiche non c'erano e quindi avevo deciso insieme a lui di condivide questo monolocale insomma però al tempo stesso non aveva preso sul serio Francesco Totti perché pensava che fosse comunque un Don Giovanni e ha detto di certo non sarà una nuova tacca da aggiungere alla sua cintura ma nonostante questo si incontrano anche insieme ad amici comuni una cosa canza perché lei racconta che aveva perso il telefono in quel momento e quindi era super nervosa lui le aveva chiesto il numero e lei gli risponde ma quale numero mi hanno rubato il telefono insomma è una sabellina anche perché vanno avanti così per due mesi poi vabbè per forza di ose lei lascia si lascia col fidanzato dell'epoca e decide di accettare l'invito di Francescone nostro nazionale allo stadio olimpico che lui l'aveva invitata ma lei aveva prontamente detto ma che ci venga a fa no assolutissimamente no fatto sta che poi in quella domenica litiga furiosamente col fidanzato si lasciano e quindi decide di prendere e di andare avverte all'ultimo Francesco e dice a Francesco sto arrivà e lui fa il famoso gol si alza la maglia della Roma e sotto ha la t-shirt quella famosissima sei unica ok quella dedicata a lei da lì insomma inizia la loro frequentazione nuovo nuovo capitolo il dubbio si ritorna nel 2022 capite perché dico che questo salto non mi piace siamo al 28 gennaio e qui in questo capitolo entra in scena Alessia la migliore amica di Hilary nonché mega artist e parrucchiera e c'è questa famosa scena insieme a Francesco Totti insieme ad Alessia insieme anche ad altri suoi amici ad un certo punto Alessia e Hilary escono da questo ristorante perché appunto Hilary si deve sfogare con qualcuno deve raccontare quello che sta succedendo e lo dice proprio Alessia ma vengono interrotte perché Francesco si rivolse ad Alessia vieni un po' un attimo con me poi si girò verso di me vieni anche tu Francesco era nero sospettava l'avessi tradito e che Alessia spesso con me a Milano per lavoro mi avesse scoperto volevo il motivo per cui nell'ultimo periodo era tanto diverso eccolo non potevo perdere mio marito per niente salutammo gli amici in fretta e furia salimmo in macchina e Francesco cominciò a riversarmi addosso tutto quello che credeva di sapere discutemmo fino al garage lui che mi accusava urlando e io che lo imploravo piangendo di lasciarmi chiarire Francesco senti se ti calmi e mi spieghi perché hai questo sospetto vediamo di chiarire non c'è nessun altro non c'è mai stato se non vuoi fidarti di me possiamo chiamare Alessia e chiedere a lei non l'avessi mai detto Alessia per lui era fuori discussione non voleva nemmeno sentirla nominare invece adesso la chiamiamo e sentiamo cosa ha da dire misi viva voce e chiesi di riassumere per Francesco ciò che facevamo abitualmente quando eravamo a Milano per lavoro il più precisamente possibile non mi credeva Francesco questa cosa chi te l'ha detta non li conosci peccato vorrei capire perché ti hanno dato delle informazioni sbagliate puoi dirmi cosa ti hanno detto silenzio rimanemmo svegli fino al mattino poi lui si addormentò e io cominciai a fissare il soffitto angosciata come erano nate quelle voci chi gliela aveva riferite ma soprattutto cosa c'entrava Alessia qui stiamo parlando ragazzi del famoso caffè con Cristiano Iovino quello di cui abbiamo parlato e hanno affrontato loro nel documentario unica quello di cui abbiamo parlato e abbiamo affrontato nei vari Spill and the Sea qui Francesco Totti lo ha scoperto e quindi ci ha raccontato Ilari per filo e per segno quello che è successo quella sera al ristorante ma non è finita qua perché da questo momento inizia veramente un incubo per Ilari in quanto lei adesso finalmente quantomeno scopre che il motivo per cui Francesco è incazzé con lei non è Instagram o meglio c'entra magari in qualche modo Instagram ma semplicemente perché lui è arrabbiato lui è geloso del fatto che ha scoperto un eventuale tradimento a Milano fatto dalla moglie Ilari d'altra parte dice ma un è vero nulla ok quindi cosa faccio il mattino dopo chiamo Alessia per capire per parlare insieme a lei anche perché Alessia è stata messa in mezzo da Francesco complice di Ilari la chiama e e Alessia gli dice guarda ma un è che ti ha letto dei messaggi su Whatsapp i messaggi che ti scambi con me altrimenti perché avrebbe chiamato in causa anche me lo sa che a Milano siamo spesso insieme ma perché dovrebbe accusarmi di aver fatto una cosa del genere mi conosce lo sa che non sono quel tipo di di persona forse dopo aver sentito queste voci ha pensato bene di verificare nel tuo telefono ha incappato nelle nostre conversazioni ha trovato qualche frase qualche messaggio boh che si prestava ad essere interpretato male che ne pensi rilassi tutto e mi resi conto che Francesco la sera prima aveva in effetti citato date e parole utilizzate da me o da Alessia in uno scambio di ottobre e quindi arriva a capire che ha letto di questo caffè con questo ragazzo però nel mio smartphone non c'era nel mio smartphone non c'era nulla a parte alcuni scambi con Alessia a proposito di una fugace chiacchierata con un conoscente comune avvenuta a Milano appena prima di riprendere il treno verso casa decise che ero colpevole senza appello cominciamo a litigare quasi ogni giorno si rifiutava di ascoltarmi bollava come un menzogna ogni parola che usciva dalla mia bocca questa è l'unica parte in cui si nomina in questo libro il famoso caffè e mi è piaciuta come scelta dato che avete fatto un intero documentario su quello qui queste sono le uniche parole dedicate al famoso caffè di Milano nei giorni successivi me la sentivo tutta sulle spalle la sua frattura che separava un prima da favola da un dopo d'inferno in mezzo ai tre mesi di frustrazione e rabbia che aveva vissuto nell'attesa vana che confessassi mentre io ritenendo non avere niente da dire avevo parlato più che altro di lui e così avevamo sofferto in due passavamo le notti a discutere a volte Francesco ossessionato dal dubbio mi svegliava alle due alle tre del mattino per farmi a bruciapelo qualche domanda che mi aveva già a posto di giorno in modo da controllare se le risposte fossero coerenti io me lo immagino Francesco che sveglia Ila nelle tre di notte oh amo amo come si chiama quello del caffè ci hai fatto pam pam e lei che diceva Francesco mi ha rotto io basta voglio dormire vabbè fatto sta che in tutto questo Amber Adam lei prova in tutti i modi a voler parlare ad instaurare una chiacchiera con Francesco e per dire la sua opinione su questa cosa ma Francesco ha messo un muro tra di loro non crede a niente perché ormai è convinto che questo tradimento c'è stato lo ha ucciso dentro e ha perso qualsiasi credibilità nei confronti di Francesco mi sentivo uno schifo una donna infame la peggiore delle madri dopo qualche tempo cominciai a chiedere con insistenza a Francesco perché avesse atteso così tanto per dirmi che gli erano giunte le voci su di me non era in grado di rispondermi questo non parla mai praticamente raga che avesse taciuto così a lungo mi era insopportabile in fin dei conti al suo posto mi ci ero trovata un sacco di volte ero sempre andata da lui e gli avevo spiattellato la cronaca nuda e cruda tutte le prove che mi davano per me non valevano niente in confronto alla sua parole Francesco in vent'anni non so quante voci mi siano arrivate sul tuo conto ma ho sempre scelto te te l'ho dimostrato con i fatti per dirne una te la ricordi quando una certa mia al grande fratello si lasciò strappare che una sua amica Marica aveva una storia con te e in due ore il web si riempì di foto di questa ragazza in maglia giallorossa te la ricordi cosa avevo fatto non se lo ricordava strano ero venuto da te Francesco il punto era che non avessi mai trovato prove dei suoi tradimenti non mi era mai venuto in mente di controllargli il telefono o chiedere in giro perché vedevo come si comportava con me e gli credevo adesso lo sai anche tu che non è piacevole sentirsi riferire certe cose sul conto della persona che ami non so più come dirti che sono distrutta non hai dovuto sopportare questo strazio convivere con il dubbio di essere la donna più cornificata d'Italia ma si sopravvive te l'assicuro e lui le risponde io non lo so tu come hai fatto in tutti questi anni io non sono bravo come te e io sono così non me lo levo dalla testa nonostante tutto però Ilari continua ad amarlo perché scrive noi ci amavamo ancora io lo amavo e volevo crescere insieme a lui era questa secondo me la vera sfida nuovo capitolo nuovo anno si ritorna indietro nel 2002 primo appuntamento tra i due da soli lui va a a prenderla con la sua Ferrari lei quando apre lo sportello distrugge lo sportello su un muretto parte subito bene ma lui sembra non interessargli nello stesso periodo lei conosce franchino quello che sarà poi il suo manager e diventerà anche un suo amico molto intimo e diciamo che questa voglia di voler lavorare questa voglia di comunque avere una sua indipendenza economica la porterà per tutto il libro e ci fa capire che la storia con Francesco non è stata una storia architettata da lei o dalla famiglia di lei per comunque sfruttare Francesco e i suoi soldi perché lei dice io non ho mai non ho mai pensato neanche per un secondo di voler smettere di lavorare anzi ho fatto di tutto per avere sempre più occasioni e per diventare la conduttrice che sono perché era il mio sogno e di questo appunto nel capitolo c'è anche una conversazione tra lei e Francesco in cui Francesco gli dice una sera perché continui ad andare a Milano ci sposiamo e stai qua no e lei e lei dice non farebbe una grinza se vivessimo nel settecento oppure se il mio sogno fosse quello di dedicarmi solo e unicamente alla famiglia non ci sarebbe niente di male intendiamoci mia madre ha scelto così e lui poi dice dicevo così tanto per dire ah ecco due paroline che lo spingono ad attendere un po' prima di farmi la proposta proposta che poi avverrà nel 2004 ovviamente e gliela farà noleggiando completamente un ristorante e vi dico anche dove Francesco gli avrebbe fatto questa dichiarazione no? questa proposta di matrimonio al mare all'isola del pescatore ok? ricordatevelo perché verrà più tardi ritornerà fuori questa cosa e non per una cosa carina nuovo capitolo si ritorna al 2022 Roma Parla si intitola è la prima volta il 22 febbraio che esce una notizia ufficiale da D'Agospia contro la coppia D'Agospia infatti titolava la favola Totti e Ilaria alle battute finali lei all'inizio bombardata di messaggi e di telefonate dai suoi amici e dalla sua famiglia pensa ma la gente non ha di meglio da fare deve proprio scrivere bufale sulla nostra vita le voci però comunque a Roma giravano a Roma si sa che a Totti piacciono i maritozzi con la panna e le belle donne ma non ho mai creduto a nessuna di queste insinuazioni perché avrei dovuto dar credito a una diceria piuttosto che a mio marito lei insomma ogni volta che gli arrivava all'orecchio la voce che Francesco andava con una piuttosto che con un'altra non solo affrontava a muso duro Francesco chiedendogli spiegazioni ma alla fine non credeva mai a queste cose a questi gossip perché di prove concrete vere e proprie di questi tradimenti non ce n'erano in più Francesco diceva lo sai com'è fa parte della fama fa parte di essere Francesco Totti non è mai vero nulla io non le onosco non le onosco queste persone e come se non bastasse c'era stata anche una prova in cui una volta una sua amica gli aveva telefonato a Ilari aveva detto guarda che hanno visto Francesco abbracciato in questa discoteca con questa tizia lei però quella sera era stata tutta la sera sul divano con Francesco e quindi da questo ha iniziato a capire che queste voci erano solo voci non doveva crederci perché c'era già stato il precedente che se l'era inventata la gente perché dovergli credere adesso fatto sta che però in questo febbraio del 2022 la cosa è un po' differente perché non era più Francesco visto con una bionda Francesco visto abbracciarsi con una mora ma c'era addirittura il nome il cognome di questa ragazza di questa eventuale nuova amante di Francesco Totti e non era una persona famosa e quindi questo è un primo campanello d'allarme che fa un attimo breccia nella testa di Ilari perché dice com'è possibile che sono andati così certi di danno per certi nome cognome identità a questa ragazza e dicono che è la nuova amante fidanzata di Francesco e il tutto accompagnato da questa fotografia la famosa fotografia dello stadio di Francesco dove Noemi Bocchi è due file indietro prova a chiamare Francesco Francesco ovviamente non le risponde e quindi gli condivide il post l'articolo di Dago Spia su Whatsapp lui le risponde non so chi sia e allora perché indicano proprio lei e non quella a fianco due file dietro vorrà dire che il fotografo la conosceva no? che ne so risponde Francesco me l'avranno presentata ad un circolo di padel forse l'ho vista due volte mi ha chiesto la foto per i bambini come tanti miliardi di persone poi guarda guarda la foto mica sta vicino a me e poi lucidamente mi fece notare che se quella fosse stata la sua amante mai l'avrebbe portata allo stadio dove ovviamente aveva un faro puntato addosso e di conseguenza lo avrebbero tutti l'avrebbero notata ci stava quindi gli credetti ma a questo punto siccome rosicava Ilari decide di dire a Francesco guarda devi fare una una rettifica cioè devi dire devi dire in pubblico che non è vera questa roba è grave non solo per l'immagine della nostra famiglia ma soprattutto per la tua ti fanno passare per uno che tradisce la moglie alla luce del sole devi fare qualcosa lui era un po' restio ma poi come ben sappiamo fece quelle instagram stories dove disse questo nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me soprattutto sulla mia famiglia non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati ora lei dice e qui ha visto i miei spine di ti sicuro io la ritiamo che gli è sembrato strano l'uso di queste determinate parole da parte di francesco perché è vero che ha detto sono diffidate da queste fake news ma non ha detto chiaro e tondo lei non so chi sia non è la mia amante ha lasciato un attimo questo alone di mistero di cui poi ne abbiamo parlato tempo addietro di cui poi ne avevano parlato anche i giornalisti dicendo questo messaggio di difesa non è molto credibile ma nonostante questo Ilari crede a francesco totti ma francesco totti continua ad avercela con Ilari Blasi colpevole di essere andata a prendere questo caffè con questo ragazzo non si sa ma magari è successo qualcosa e quindi l'hai tradito francesco prova a vederla così adesso io mi trovo nella tua stessa situazione ho davanti una fotografia che come mi confermi tu stesso non significa niente ho due scelte fidarmi oppure no scelgo di fidarmi tu sei mio marito l'uomo che amo e se tu mi dici che è tutta la montatura io ti credo fai male solo che mentre per te tutto si è svolto nella tranquillità della nostra casa io passo ancora una volta per la cornuta d'Italia visto che di questa storia parla tutto il paese in risposta suggeri di far pubblicare anche i miei messaggi come vuoi vuoi far uscire questa storia falla uscire se ti fa sentire meglio non ho niente da nascondere ma non cambierebbe il fatto che io ti credo e tu no te l'ho già detto io non sono bravo come te insomma fatto sta che escano questi messaggi esce a tutto fo e ovviamente la cattiva della situazione è Ilari mi faceva impazzire il fatto che la smentita venisse criticata definita debole troppo lieve inconsistente ma non c'era altro oltre alla foto nessuno scatto compromettente nessuna prova schiacciante o mio marito era un genio nel nascondere le sue tracce cosa davvero molto difficile se di cognome fai totti gli hai dato degli idiota praticamente oppure era tutto falso capite perché lei continua a credere al marito nonostante tutte queste voci nonostante tutti i gossip che c'erano perché le prove schiaccianti non c'erano e lei essendo stata vent'anni con il marito gli crede anche perché dalla sua non c'erano queste prove nessuno come è possibile uno è normale che viene portato a credere che sia tutto finto perché mi dici una cosa ma dov'è la fotografia della prova dov'è la prova di quello che stai dicendo mi porti una foto dove c'è l'amante che è due file più indietro boh mi sembra comunque strano affrontano nonostante tutto queste cose anche con i figli parlandone e cercando un po' di indolare la pillola e addirittura parlando anche con Francesco Francesco le giura sui figli che non esiste questa amante che Noemi Bocchi non è la sua amante e lo dice anche ai figli che non c'era nessuno che tutte quelle cose lette sui giornali erano fake news e lo giurò che non era vero niente non c'era nessun'altra donna finalmente una buona notizia ok vabbè poi arriva il capitolo dove appunto lei rimane incinta dei suoi tre figli e la cosa molto carina è che ogni volta che lei rimaneva incinta c'era uno slancio uno scatto della sua carriera per esempio la prima volta conduce Sanremo insieme a Panariello la seconda volta si è accorta di essere incinta e stava presentando festival bar e le avevano proposto le iene a conduzione delle iene ci sta 11 anni e poi una volta finito anche con le iene gli chiedono finalmente di condurre il grande fratello Vip cosa che lei dice essere stato il sogno della sua vita lei ha iniziato questo lavoro perché voleva arrivare a condurre il grande fratello e finalmente c'è riuscita finalmente anche accettato anche perché per la prima volta lavora a Roma e quindi non può più non deve più fare in sua Roma-Milano per stare con la famiglia ma è lì a casa ma arriviamo al capitolo Kamikaze 2022 in quanto ennesimamente lei cerca un dialogo con Francesco facciamo così scoperchiamo il vaso di Pandora diciamoci tutto tiriamo fuori tutto tu mi dici cosa non ti va bene di Ilari io ti dico cosa non mi va più bene di Francesco e andiamo avanti ricostruiamo si cresce si cambia è normale dopo tanto tempo dover ritrovare un equilibrio vediamo dove dobbiamo cambiare dove ancora combaciamo vedete qui si ritorna all'inizio del libro dove lei si rende conto che il loro rapporto deve cambiare ma lo prende come sfida perché è ancora innamorato perché ci crede ancora ma dall'altra parte Francesco ha un portone chiuso davanti a sé anche perché lui non voleva cambiare niente gli piaceva come era primo tutta questa mia insistenza sulla nostra crescita come coppia gli sembrava niente più che un pretesto per spostare l'attenzione dalla vera questione cioè che io avevo guastato tutto nonostante comunque la sua ancora continua rigidità tornano anche a fare pen pen ogni tanto la sera e questa cosa mi è piaciuta molto che l'abbia scritto perché è super una super frecciatina non lo so magari qualcuno legge questo libro e ci sta adesso boh vabbè per lui ero sempre stata quella che risolveva i problemi non quella che li creava per dimostrare quanto tenessi a lui avevo già rinunciato alla presenza di Alessia però potevo fare di più l'isola dei famosi sarebbe andata in onda due giorni a settimana il lunedì e il giovedì in altre circostanze sarei tornata a Roma solo nei weekend salvo eventi speciali ma scelsi di fare avanti e indietro come ai tempi del nostro finanziamento solo che niente sembrava bastagli insomma questa poi era chi sta cercando di tutto e di più per far continuare a farsi perdonare di una cosa che lei dice non essere vera ma al tempo stesso crede a Francesco Totti di tutto quello che è successo dell'amante e tutto quanto ma in tutto questo Francesco Totti continua ad accusarla di essere la causa della crisi del loro matrimonio perché lo ha distrutto e è un egoista perché non fa abbastanza anche perché l'Isola dei Famosi come abbiamo detto sta per iniziare e come prassi lei deve andare a fare l'intervista verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin lei in questo caso riparla con Francesco e gli dice Francesco guarda ok non bisogna andare a parlare per l'Isola dei Famosi per reality e tutto quanto ma siccome è gossip del momento che vuoi che non me la fanno una domanda su di sé che devo dire cosa devo rispondere ti devo difendere devo dire che non sono fatti loro Francesco gli dice guarda puoi andare di quello che ti pare perché io non ho nulla da nascondere quindi credi a me no non c'è nessun'altra si stanno inventando le cose lei poi va a verissimo fa quella sparata contro i giornalisti dicendo che sono delle merde che si inventano le cose ne abbiamo parlato tantissimo ma era contentissima di aver fatto questo mega gesto per aver dimostrato ennesimamente l'amore che prova per Francesco perché questa volta lei è andata in televisione davanti a tutti a difenderlo pensa che sia stato un gesto super apprezzato da Francesco ma in realtà no ma ragazzi perché Francesco gliene può fregante meno e quindi riparlano ok riparlano di tutta questa roba riparlano del fatto che lei è andata contro i giornali per lui e lui dice a un certo punto questo vuoi riconquistare la mia fiducia allora senti che ho pensato per far sì che io mi possa fidare nuovamente di te tu non devi mai più vedere Alessia ti devi cancellare da tutti i social cambi numero di telefono e poi smetti di lavorare e poi una fettina di culo fatto sta che lei rinuncia ovviamente come ben sappiamo e dice Francesco te mai mi chiedi di scegliere o te o la mia vita mi dispiace ti amo ma quello che mi chiedi è un po' troppo quindi ti dico di no e questo va ancora peggio va ancora contro Ilari perché Francesco adesso c'ha dalla sua che ok vedi che te non vuoi fare niente per venirmi incontro non vuoi fare niente per aggiustare le cose che non vanno nel nostro matrimonio io te l'ho detto quello che devi fare per sistemare le cose mi hai detto di no è colpa tua oddio raga ma vi immaginate vive insieme a questo a una persona del genere che cerca di in qualche modo manovrarti in questo modo facendoti sentire in mega colpa cosa che lei per tutto il libro dice io mi sento in mega colpa nonostante non abbia fatto niente però qui inizia a venire un dubbio a Ilari che dice boh io ho iniziato anche a pensare che magari il vero problema non è Instagram non è sta roba del caffè il vero problema è che nel momento in cui lui si è ritirato dal calcio e quindi non è più quella megastar quell'idolo giocatore perché ok è comunque un erogo nazionale del mondo del calcio ma non lavora più io proprio in quell'istante ho avuto uno slancio mega nella mia carriera sono una comunque delle conduttrici di punta di Mediaset la mia popularità alle stelle non è che è proprio questo che gli sta dando un po' fastidio lui però rimaneva sulla sua posizione la colpa era mia e fra l'altro nemmeno volevo risolvere la situazione come lui mi aveva generosamente offerto tu non vorresti evitare i nostri figli una separazione gli domanda Ilari a Francesco io sì Francesco non risponde poi c'è un capitolo che va dal 2016 al 2021 dove in poche parole parla della sua carriera io ve ne ho già detto ma veniamo al prossimo capitolo fino a questo punto 2022 mi senti in colpa fino al giorno del mio compleanno dovevo e volevo festeggiare se non altro per illudermi e illudere i miei figli che tutto sommato le cose andassero più o meno decentemente Francesco Totti al pranzo di famiglia non voleva esserci ma poi costretto dal figlio Cristian c'è ma tipo dopo un po' se ne va via facendo finta di aver qualcosa di lavoro la sera della cena con gli amici lui non si presenta ovviamente lei dice che non dedicare nemmeno 5 minuti al mio compleanno era una scelta o meglio era un messaggio ti disprezzo ma uno fregio così poteva significare una cosa sola che lui non voleva riprovarci nel frattempo parla anche con gli amici di Ilari di questa situazione perché dice vabbè lo sanno tutti è inutile fa finta di nulla ma al tempo stesso lei nota o meglio le fanno notare che nella famosa fotografia quella dello stadio di Francesco con Noemi due file più indietro accanto a Noemi c'era il suo miglior amico il miglior amico di Ilari e quindi decide anche di affrontarlo e dice ma perché non mi ha detto nulla di bella storia lui bifonchia un po' di qualcosa dicendo che aveva frequentato qualche tempo un'amica di Noemi e quindi l'aveva conosciuta così ma si era trovato accanto a lei così a caso e lei si incazza ovviamente dice ma scusa ma io sono mesi che mi cervello su questa roba te ci sei lì ma perché non sei venuta a dimmelo subito e mi hai detto oh io c'ero non ti preoccupare non è come dicono giornali oppure venivi da me e mi dicevi oh hanno ragione i giornali che S-T-R-O-N-Z-O-6 e lui le risponde in poi parole non mi volevo metterne in mezzo perché mi sembrava una cosa stupida no così però te l'ho detto ora boh lei decide di credergli ma al tempo stesso lo sputtanè davanti a tutti alla scena del compleanno perché gli fa ripetere tutta la versione dei fatti che gli aveva detto al telefono e questo amico chiama Francesco Totti e gli dice quello che è successo e Totti incavolato nero mi domandò perché avevo forzato il mio amico storico a raccontare tutta la storia davanti agli altri e lei dice ah sì ma perché non ha chiamato me per dirmi che ci era rimasto male o comunque si era sentito un attimo un imbarazzo ma ha chiamato te c'è qualcosa che non torna e lui Totti le risponde che ne so ha chiamato me insomma fatto sta poi che fanno un'abbracciata lei ne riapprofitta per riprendere questo amico e di guarda che Francesco mi ha raccontato che l'ha chiamato lui rimane basito perché non si aspettava che Francesco magari gli dicesse sta roba e gli racconta che ha voluto chiamare Francesco perché alla fine allo stadio c'era Francesco nella foto c'era Francesco e non c'era lei ora se lei mi viene a dire che crede ancora a questo fantomatico migliore amico io me ne vado crede ancora a lui vabbè che comunque era il suo migliore amico ma al tempo stesso siamo sempre in questo periodo compleanno di Ilari passato da poco un paparazzo la contatta la contatta e le chiede di vederla lei perché ha bisogno di parlare con lei e in questo in questo incontro gli fa le mostra una nuova fotografia di Francesco Totti insieme a questo migliore amico che mi ricordo era il migliore amico di Ilari Blasi e erano nell'idromassaggio di un hotel di Monte Carlo un hotel che lei conosce che Ilari conosceva molto bene perché Francesco ce la portava molto spesso e in questa foto oltre a loro due c'era anche una ragazza bionda però fotografata da dietro il paparazzo fa vedere a Ilari questa foto e gli dice guarda c'è questa foto questa è Noemi Bocchi io te lo odio perché probabilmente potrebbe potrebbe uscire io te lo odio perché comunque ormai ci conosciamo mi dispiace per te ti voglio avvertire no? prima che escano determinate foto e Ilari dice ok ma come fai a dirmi che è Noemi Bocchi se è una fotografia dove lei è di spalle e lui il paparazzo gli dice guarda esistono in realtà anche altre foto dove si vede lei è in volto però io queste foto non ce le ho non le ho viste sono solo voci di corridoio mi hanno riferito però che queste foto ci sono Ilari dice vabbè ti ringrazio ma se io non vedo la prova è tutta o fumo grazie mille ciao ma va a casa e a Francesco Totti gli domanda questa roba gli dice guarda amo l'hanno fatto una fotografia perché chi è sta bionda? ok e lui dice ma che ne so sarà una turista mica ci siamo solo noi mica ci siamo stati solo noi ora c'è da dire che questo viaggio ne abbiamo parlato più e più volte Ilari Blasi lo sapeva perché era il momento in cui Francesco Totti doveva andare qualche giorno in Albania e poi a Monte Carlo quindi Ilari non è che è caduta dal pero perché non sapeva dove fosse suo marito lo sapeva e il fatto che ancora c'erano queste prove non prove dimostrava secondo la sua testa che erano tutte cose inventate che il marito non la tradiva perché nessuno aveva delle prove concrete o comunque nessuno gliele faceva vedere ma nonostante questo Francesco continuò a trattarla così come se lei fosse niente a volte facevamo l'amore nulla di paragonabile al passato forse per lui era solo pem pem ma comunque mi confondeva se voleva lasciarmi perché veniva a letto con me una sera l'attesi Francesco io non ce la faccio più non capisco cosa puoi entri esci da casa come se fossimo due conquilini ti rifiuti di ragionare con me sono mesi che ti sei chiuso in un mutismo allucinante pure per te e quando parli lo fai per farmi sentire in colpa adesso basta se vuoi che ci separiamo devi andare dall'avvocato a farmi scrivere la responsabilità della separazione te la devi assumere te perché io non la voglio la separazione te lo dico chiaro e tondo ci darei un'altra possibilità anche adesso però Francesco dall'avvocato non ci è mai andato ok era assurdo ero costretta a elemosinare una cosa che non volevo alla fine per non prolungare ulteriormente la nostra permanenza in questo limbo senza speranza fesci come avevo sempre fatto presi in mano le redini della situazione e fissai un appuntamento dall'avvocato i primi incontri però furono lentissimi Francesco non si faceva trovare ignorava le telefonate del suo legale non si presentava agli appuntamenti quindi passarono giorni settimane ma insomma la Francesco ma che vuoi ma io non ho capito ma perché ma arrivano le vacanze e lei dice siccome lo conosco Francesco che quando si vede un po' si sente un po' si risponde con la ripicca sapete Osa siccome c'è un conto in comune con lui temendo che potesse sospendermi l'accesso al conto alle cassette di sicurezza a metà giugno andai in banca a ritirare i miei gioielli i miei orologi lasciando lì ovviamente tutto ciò che era suo e dei bambini i famosi Rolex ragazzi poi finita lì con questo capitolo vedete uno dice voglio sapere che è successo con Rolex finalmente no si arriva un altro capitolo 2016-2017 che è quando Francesco Totti dice dall'addio al calcio è molto anche abbastanza carino e questo però è molto utile come capitolo perché i giorni successivi Francesco li passa a guardare il loop il momento dell'addio poi i giorni diventano settimane settimane un mese Ilari comunque le sta gli sta accanto cerca in qualche modo di stargli vicino di fargli passare questo momento super traumatico nella sua vita e finisce questo capitolo con un messaggio ricevuto da Ilari da parte di Francesco mi ringraziava per essergli stata vicino nel momento peggiore della sua vita coccolandolo stringendolo abbracciandolo l'avevo fatto sentire forte e amato e ci teneva a farmi sapere quanto a sua volta mi amasse e mi considerasse la sua metà ricordatevi di questo messaggio perché poi quando parleremo dell'intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera è stato detto tutto il contrario ma torniamo al 2022 ci siamo ragazzi lo so che l'attenzione è un po' calata ma adesso arriva il bello è l'anniversario del loro matrimonio il 19 giugno i due non si incontrano mai si incontrano per caso il pomeriggio ma non si cagano tra l'altro Francesco la sera le dice esco a cena con gli amici ma io ormai non dissi niente l'alba del giorno successivo partì per Milano la sera ci sarebbe stata l'ultima la penultima puntata dell'Isola Famosi Francesco però per la prima volta mi disse che avrebbe pensato alla bambina a Isabel la loro figlia piccola finalmente una gioia Isa avrebbe passato il tempo con il papà al mio ritorno la trovai felicissima intenta giocare con tanti giochi nuovi le chiesi da dove venivano è un segreto tra me e papà d'accordo d'accordo mentre gli sfacevo la valigia Isabel mi saltellava intorno le chiesi come era andata se con papà si era divertita con chi erano stati ho dei nuovi amici mi raccontò bello e come si chiamano non me lo ricordo nella stanza di Bianco c'era la tata le chiesi si sapeva qualcosa di più a quanto pareva Francesco e Isa erano andati a pranzo a casa della nuova finanzata di un amico di vecchia data che conoscevamo entrambi e lì avevano conosciuto alcuni amici di lei insieme ai loro figli ora era tutto chiaro archiviai l'informazione e non ci pensai più la settimana successiva però successe la stessa cosa Isabel che aveva una nuova bambola lei che gli chiede ma questa bambola dove arriva? te l'ha regalata papà? non posso dirtelo mamma se no papà si arrabbia e non mi compra più i giochi qui arriva il primo campanello d'allarme un conto era la condivisione padre figlia di una piccola trasgressione ma perché chiedere di non dirmi niente? ma tu amore non devi avere segreti con mamma dove sei andata con papà? siamo andati in una casa con delle persone c'erano tanti altri bambini ho giocato con loro ma questi bambini sono gli stessi che conosce anche la mamma? no i bambini sono gli stessi dell'altra volta? sì non ti ricordi come si chiamano? non è che non me lo ricordo è che non te lo posso dire mamma anche questo è un segreto tra te e papà? sì era una situazione assurda mia figlia ha indotto a tacermi i nomi dei suoi amici decisi di fare altro di cambiare argomento mentre giocavamo non mi davo pace morivo dalla curiosità però tenevo tutto per me a un certo punto fu Isa a tornare sull'argomento scocendo il nomignolo di una bambina che mi disse essere più grande di lei e avere un fratello più piccolo di cui mi rivelò il nome quindi adesso le informazioni che ha Ilari è che Francesco ha portato la loro figlia a casa di qualcuno che comunque Ilari non conosce e una coppia comunque ha una figlia grande e un figlio piccolo di cui ha lei adesso anche il nome nel nostro solito giro nessuno aveva figli con quei nomi e di quell'età era strano mi ricordai poi di aver letto da qualche parte che Noemi la ragazza fotografata allo stadio aveva due bambini un maschio e una femmina dovevo scoprire come si chiamavano va sul suo profilo Instagram ma è chiuso ma riesce in qualche modo a telefonare a un'amica che telefonò un'amica che telefonò un'amica a scoprire il nome e l'età dei bimbi di Noemi e corrispondevano a quello che gli aveva detto la sua bambina la mamma deve andare un attimo in bagno amore torno subito appena chiusi la porta mi sentii debole sfinita senza più energia nemmeno per reggermi in piedi che stupida titolo qui Hilary si rende conto che tutto quello che ha passato lo ha passato credendo ad una menzogna che tutto quello che scrivevano giornali era vero perché Francesco aveva portato la loro figlia con Noemi da Noemi e la figlia aveva giocato con i figli di Noemi che stupida Francesco aveva nascosto l'amante nel posto meno ovvio alla luce del sole mi venne un attacco di nausea corsi in bagno vomitai quel niente che avevo nello stomaco e rimasi lì sudando freddo quest'uomo sfuggente invece non lo conoscevo mi aveva mentito mi aveva punito provocandomi per mesi sensi di colpa quando il problema era suo non mio e poi mi aveva mandato a schiantarmi in televisione a negare la sua relazione ad insultare tutti i giornalisti d'Italia mi guardai allo specchio quella non ero io era una donna distrutta la vittima di una situazione che non aveva voluto avevo però bisogno di vederlo con i miei occhi solo così avrei neutralizzato la parte di me che proprio non voleva sapere di accettare Francesco per quello che era e sarei riuscita a costruirmi un'armatura di ghiaccio per sopportare quanto sarebbe avvenuto dopo appena lui mi annunciò che sarebbe uscito a cena sfruttai Radio Quartiere che è appunto chiamo chiamo quella chiamo quell'altro per recuperare l'indirizzo di lei poi chiamai Giorgia la moglie di Angelo Angelo è il cugino di Francesco Totti super amico di Francesco Totti e Giorgia appunto essendo la moglie è diventata super amica di Ilari chiama Giorgia insieme a Giorgia le racconta tutto e decidono di pedinare Francesco riescono a riuscire a trovare la macchina di Francesco parcheggiata in quella che dovrebbe essere dall'indirizzo ricevuto alla casa di Noemi Bocchi escono per scrutare un po' e scoprire cosa stava succedendo scoprono che c'è una specie di festa in giardino sentono le voci tante voci tra cui anche la voce di Francesco Totti iniziano un po' ad aggrapparsi per cercare di sguardare di vedere ma a un certo punto qualcuno vede Giorgia e dice oddio ci stanno guardando c'è qualcuno c'è qualcuno e quindi loro scappano alla guida c'è Ilari ma sbaglia invece di mettere la prima mette la retromarcia perché così erano un po' tutte eccitate elettrizzate prende un muro o un albero insomma in pieno con la macchina e poi scappano allora finalmente ogni cosa era chiara basta dubbi sensi di colpa angoscia e paura c'era una realtà orrenda si trattava di accettarla e andare avanti come ci riesci ti ha preso in giro per mesi se ci penso mi viene da vomitare non si è nemmeno assunto a responsabilità della doppia vita molto meglio far venire i sensi di colpa a me a maggior ragione va bene così quest'uomo non è mio marito non so chi sia non lo voglio quella sera però Francesco mi raggiunse mi accarezzò i capelli e la schiena non se ne parla chiusi gli occhi fingendo di dormire cioè voi rendetevi conto Francesco dopo aver fatto i porti comodi con Noemi quella sera è andato e ci ha provato a fare pepe con Hilary vabbè comunque a questo punto la cosa certa è che Hilary finalmente ha iniziato a credere ad agospia ai giornali e soprattutto ha scoperto che Francesco ha davvero un amante e che veramente quest'amante è Noemi Bocchi e quindi prende questo investigatore privato ne abbiamo parlato l'ha preso di Milano per non far sì che magari boh sendo romano magari amava il pupone quindi non le diceva cose ma questo investigatore si fa sgamà ok ma a questo punto Francesco Totti sa o comunque si immagina che questo investigatore è stato mandato da Hilary ma continua a casa a far finta di nulla e Hilary alla fine glielo dice Francesco guardami nell'occhi ancora il coraggio di dirmi che tutto è inventato certo ti hanno messo in mezzo Noemi te l'hanno appioppata però ieri sera hai portato mia figlia a casa sua arrenditi ti hanno visto quando pensavi di dirmelo lui non sapendo dove sbattere la testa contrattaccò accusandomi di averlo fatto seguire da un investigatore certo risposi perché tu non mi dicevi la verità tu negheresti ancora come stai provando a fare comunque da quanto va avanti almeno da febbraio altrimenti da gospia le foto non le pubblicava secondo Francesco la colpa era mia ovvio si era sentito tradito e solo a causa di questo si era buttato nelle braccia di un'altra solo in quel momento realizzai che quella ragazza l'avevo già vista a Poltuquatu in Sardegna dove Francesco aveva partecipato ad un torneo di padel dopo il nostro viaggio a Mosca mi devi dire perché proprio lei che non era iscritta al torneo guarda caso in un weekend si trovava si trovava in un albergo completamente prenotato da persone che invece col torneo avevano a che fare mi disse di non ricordare affatto che lei fosse presente in quell'occasione e quando l'avresti conosciuta per l'ennesima volta si rifiutò di parlare non provare ad andartene vigliacqua hai conosciuto un'altra va bene succede ma poi hai provato a scaricare tutte le colpe su di me mentre facevi una cosa schifosa francesco eh no nulla ti giustifica dall'aver mentito a me ai nostri figli alla nostra famiglia agli amici alle persone che ti amano e ti seguono e ti considerano un esempio adesso con le bugie la finiamo vieni con me andiamo di là dai ragazzi riunione di famiglia insomma io lo dicano ai figli dicano che francesco aveva quest'altra ma francesco in tutto questo cerca di far passare questa noemi come una scappatella come una cosa che non era seria e in più per giustificarsi del fatto che aveva l'amante ad Ilari disse anche che il cugino Angelo e il cognato Ivan il marito della sorella di Ilari uomini dalla specchiata integrità mentivano alle mogli e frequentavano alcune amiche di Noemi a questo punto lei dice aspetta sai cosa li chiamo e incontra sia Giorgio che poi Ivan gli dice e gli riferisce che francesco aveva sputtane aveva detto guarda che sta dicendo questo loro neri neri e finalmente inizia a cadere il castello di carta di francesco totti in quanto loro prima Ivan poi anche Giorgio dicono che francesco gli aveva presentato questa Noemi qualche mese fa in una discoteca in cui lui voleva andare tantissimo e loro non avevano voglia di andarci ma gliela aveva presentata chiamandola la mia fidanzata non ci avevano molto creduto ma nonostante questo Angelo aveva provato più volte a dire a Francesco guarda sta facendo una cavolata povera Ilari cosa gli si dice cosa si fa smettila di qui smettila di là e di tutta risposta Francesco lo elimina dalla propria vita ok si allontana sia da Ivan sia da Angelo e poi Angelo chiede ad Ilari di essere invitato a casa loro perché appunto non aveva più visto Francesco aveva bisogno di parlargli ma una volta arrivato a casa Francesco si ribarrica in camera e non lo vuole vedere questo Angelo starebbe venti minuti fuori dalla porta a sedere in terra cercando di parlare da solo lo aspetta un po' e poi gli dice vabbè o sai cosa ciao non devo parlare addione e finalmente siamo arrivati a luglio con i comunicati separati dell'ANSA in cui sia lei che lui pubblicano queste note e la cosa che ha fatto un attimo imbestialire Ilari Blasi è stata appunto sono state appunto le parole di Francesco perché lui dice ho tentato di superare le crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa non è evitabile lei dice ma non è vero te non hai fatto niente anzi hai avuto anche l'amante hai l'amante stai con un'altra sono io che ho cercato di far di tutto perché devi far finta di dire cose che non sono vere fatto sta che lei nel mentre è a fare questo viaggio a fare il safari con i suoi figli quando torna si rende conto che comunque la situazione è cambiata lei dice la famiglia che avevo costruito sul modello di quella in cui ero cresciuto non c'era più c'ero io con i miei figli i miei genitori le mie sorelle i nostri amici ma era un'altra cosa mi sembrava di aver perso un arto inizia a fare un po' di vacanze perché a Roma non ci sta più e quando torna a queste vacanze e torna quindi a Roma va a prendere le chiavi che si era portata dietro perché conosceva suo marito ve l'avevo detto prima che lei diceva lui quando si sente un attimo così si mette sulla difesa e fa delle ripicche lei si era portata con sé per tutto il mese di agosto e di luglio le chiavi del suo guardaroba del suo armadio perché il suo armadio per entrare nel suo armadio bisogna aprire la porta blindata ma gira la chiave apre questa porta blindata e si rende conto che dentro il suo armadio non c'è più nulla è sparito tutto e lei subito dice è stato Francesco subito subito è stato lui manda subito un messaggio a Francesco e gli dice borse scarpe gioielli era tutto chiuso a chiave nella mia scarpiera sono tutte cose mie e ora io non ho borse e nemmeno scarpe per andare in giro devi riportarle stasera o farle riportare a casa entro stasera e per fortuna che mi dici di trovare un accordo ma ti rendi conto lui insomma però gli dice no Kurt Kaiser perché te mi hai fregato le cose mie da uomo da maschio e io quindi mi sono preso le tue cose da femmina lei è un cazzè ok vuole telefono al suo avvocato ma nei giorni successivi queste ripicchine di Francesco continuano perché si rende conto che non ha non trova più le chiavi né per la sua smart né per tutte le altre macchine e addirittura non ha più nemmeno le chiavi per aprire il cancello del garage e dice ma com'è possibile questo mi sta rinchiudendo qui sono in prigione imprigionata in casa mia ma perché sta facendo questa roba si renderà poi conto che Francesco proverà a darle fastidio il più possibile perché vuole la casa non vuole andarsene di casa ma vuole che sia Ilari ad andarsene cosa che però ovviamente non succederà mai quando comunque hanno fatto questa dichiarazione all'anza della separazione casualmente iniziano adesso ad uscire fuori tutte le prove tutte le foto di Francesco con Noemi della macchina di lì di là di lì e nel frattempo Ilari viene chiamata da un direttore di giornale in cui gli dice in cui le racconta e gli dice guarda quelle foto che ti hanno fatto vedere a Monte Carlo era Noemi veramente e lei dice ma come fai a sapere lo so perché le altre fotografie che non sono uscite dove si vede il viso di Noemi sono arrivate nella mia scrivania e io poi chiamando Francesco lui era super dispiaciuto mi ha pregato in ginocchio non farlo uscire mi sembrava di farvi un favore quindi alla fine non l'ho pubblicata però esistono veramente chiese il direttore se poteva mostrarmele e sì non c'era dubbio la ragazza bionda che avevo visto solo di spalle era proprio lei ma da quanto andava avanti sta storia si è chiesta lei come minimo dall'estate del 2021 se a novembre dello stesso anno al compleanno di Angelo l'aveva presentata come sua fidanzata o magari dagli inizi di luglio quando l'avevo vista con i miei occhi in Sardegna qualcuno aveva visto comunque sul profilo di Noemi una story con 13 rose pubblicata al giorno di San Valentino del 2022 la di Tascalia diceva 13 mesi di noi i primi like di lui mi dissero più avanti risalivano ad agosto dell'anno precedente sembrava che i due stessero insieme dai primi mesi del 2021 nel frattempo accadde una cosa strana sulla stampa cominciarono ad uscire assurdi scoop su di me mi vennero attribuiti vari flirt Luca Marinelli fa la lista mai conosciuto Antonino Spinambese mai avuto il piacere Alessio Lapadula amico più che altro su Instagram ma la cosa che le faceva più male a Ilari riguardante appunto i gossip dei giornali e dei giornalisti era il fatto che molti dicevano che lei era d'accordo che loro erano una coppia aperta che comunque erano d'accordo nel farsi delle vite parallele ma di mantenere la facciata per i giornali e per i figli e i giornalisti lo chiamavano patto segreto lei però dice io ci sto male per questa roba perché non è vero ma vi immaginate questa roba non è mai successa non c'è anche mai passata nell'anticamera del cervello una cosa del genere e tra le altre cose inizia anche a domandarsi ma se al posto suo l'avessi fatto io cosa sarebbe successo amo non te lo domandare perché sarebbe successo al finimondo sappilo ma arriva finalmente questa intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera l'abbiamo già analizzata 800 miliardi di volte tutti i spillindetili li trovate qua sotto nell'info box ma qui abbiamo anche la reazione di Hilary Blasi alla lettura di questa intervista dove ovviamente Francesco in poche parole dice ci passa da vittima vuole fare la vittima dicendo guardate è vero io magari l'ho tradita con Noemi ma non sono stato il primo a tradire what? dice Hilary questo era incredibile l'uomo che si rifiutava di parlarmi ormai da un anno avrebbe tentato di salvare la famiglia mentre io me la spassavo con un altro anzi più di uno Francesco non si faceva problemi a mentire spudoratamente raccontando al giornalista che tra noi era esplosa una crisi tra marzo di aprile 2021 tutto però sarebbe nato prima molto prima nel 2016 il suo penultimo anno da giocatore quando lui si sentiva fragile in cui lui dichiarò che lei non l'era stata accanto e qui vi ricordate il messaggio che lui le mandò nei giorni nei mesi successivi all'addio al calcio beh è il contrario non solo ero anche stronza insensibile stronza era stata una prova a rimanergli vicino in quei frangenti una prova difficile e io avevo fatto di tutto ciò che era il mio potere per dimostrargli che c'ero in maniera concreta perché l'uomo che diceva di amarmi che non avrebbe potuto vivere senza di me mi stava insultando in quel modo sapeva che non era andata così la storia con Noemi stando all'intervista era cominciata dopo cavo danno e si era consolidata a marzo 2022 dopo le foto di Dago Spia prima della mia ospitata Verissimo avrebbe potuto dirmi la verità e invece no ha negato ha parlato anche che lei gli avrebbe rubato i Rolex e nell'intervista lui dice cosa dovevo fare le ho nascosto borse sperando in uno scambio ecco svelato l'arcano se rivoleva i regali che mi aveva fatto negli anni passati non sarebbe stato più semplice chiedermeli indietro la cosa ha intristito ovviamente anche la famiglia di Ilari perché lui nell'intervista dice che insieme a Ilari a prendere i Rolex c'era anche suo babbo e quindi la mamma era super triste del fatto che lui avesse dato dei ladri alla famiglia di Ilari e che tutti avrebbero pensato che loro l'avevano sfruttato per i soldi cosa che in realtà non era perché la mamma di Ilari fin da subito lo aveva preso sotto la sua ala e lo aveva trattato come se fosse un suo figlio ma dopo questa intervista susseguono mesi di incubi di inferno per Ilari tant'è che comunque il giorno del compleanno di Francesco Totti Francesco lo festeggia dove? all'isola del pescatore quella dove aveva chiesto di sposarla Ilari molti anni fa e con chi lo aveva passato questo compleanno con la nuova Noemi e lei ci rimane un po' male che dice scusa perché cioè di tutti i ristoranti tutti i posti e cellul proprio guarda che è STRO NZO fatto sta che nei giorni successivi addirittura gli fu fu Ilari estromessa dall'app di domotica con cui gestiamo l'apertura a distanza di porte e cancelli era stato Totti ok e alla fine è riuscito poi a riconvincerlo a rimetterla ma in cambio lui le ha chiesto 300 euro a ottobre mi resi conto che la zona lavanderia e locale in cui si trova il quadro elettrico risultava inaccessibile cercai le chiavi delle rispettive porte sparite in un'altra occasione trovai la mia camera dal letto e il mio bagno sbarrati il suo scopo era impedirmi di usare la casa che tanto rivoleva indietro cercava di indurmi ad andarmene con dei dispetti come faceva Francesco a non sapere che se provocata difficilmente mollo il colpo più si accaniva su di me più in me cresceva la voglia di andare avanti la consapevolezza che non avevo perso chissà che ero stanca preoccupata e ansiosa la vita per come la conoscevo era scomparsa polverizzata ma a metà ottobre l'avvocato mi chiese di fotografare i vari ambienti della casa lei qui per caso si rende conto che la porta della sua zona benessere in casa non si apriva non andava al codice e dice che è successo perché un altro scherzetto di Francesco decide di chiamare l'architetto lo chiama dice guarda mi sape la porta porta un fabbro e faccelo apri arriva l'architetto il pomeriggio ma la porta si apre tranquillamente lei dice boh forse evidentemente Francesco ha saputo vie traverse che io mi ero resa conto che quella zona era chiusa e per non farmi insospettire perché magari c'è qualcosa dentro l'ha riaperta c'è qualcosa dentro c'è parte del mio armadio è lì dentro sicuro devo intervenire devo guardare insomma va lì dentro dentro questa zona relax ma non vede nulla non c'è niente il giorno dopo però lei era un po' sconcertata ma va ad un'udienza con i legali suoi e di Francesco e dice che i legali di Francesco si fecero sfuggire un'informazione lui non aveva rubato niente casomai aveva nascosto spostando i miei oggetti da una zona all'altra della casa e qui lei dice allora tutta la mia roba è in casa devo solo cercare meglio ritorna quindi nella zona benessere alza lo sguardo e si rende conto che c'era insomma un'altra porta blindata che portava ad un locale tecnico stretto e lungo era chiuso anche quello richiama l'architetto fallo riaprire ma lì finalmente chiusi in dei sacchetti della spazzatura neri parte del bottino parte del suo armadio delle sue borse delle sue scarpe e lei le ritrova ma non erano tutte feci mente locale sugli spazi meno frequentati della casa e mi venne in mente che il resto degli oggetti poteva essere in un piccolo magazzino esterno ma no non c'era nulla e quindi alla fine invece mezzo di notte l'illuminazione il corridoio della zona notte aveva un controsoffitto sollevai uno dei quadri di pelle che fungeva da botola mi issai sulle punte e cominciai a urlare per le borse avevo trovato il resto delle scarpe e delle borse insomma ragazzi siamo alla fine del libro qui ci sono ancora altre ripicchine altre cose che Francesco fa a Ilari per indurla a lasciarle casa tra cui anche quello di licenziare la tata che segue Isabel e Ilari contraria la riassume subito perché dice in questo momento l'unico punto fisso l'unico punto saldo di Isabel che è la nostra più piccola la nostra figlia più piccola non puoi toglierglielo è impossibile una cosa del genere ma cosa stai facendo e quindi insomma succedono un po' di cose ancora battagline un po' così fino a quando arriva la richiesta di Francesco Totti di portare tutti i loro figli con lui e la Noemi e i figli di Noemi in crociera Caraibi per Capodanno Ilari Blasi all'inizio era contraria dicendo ok porta quelli grandi ma Isabel no perché è troppo lontano se metti casa succede qualcosa o a lei gli manca la mamma io sono dall'altra parte del mondo come faccio insomma pressata comunque alla fine sia da Francesco da una parte sia dai figli più grandi dall'altra che volevano andare in tutti i costi a questa super mega vacanza alla fine decide di sì di acconsentire a questa cosa a patto che lui quando torna da questa vacanza se ne deve andare di casa e così fu mi sembrava di usare mia figlia come merce di scambio ma se Francesco avesse detto di sì sarebbe stato la salvezza di tutti troppo compromesso con i grandi cioè i figli la compagna e la committiva Francesco non poteva far altro che accettare nel frattempo lei se ne va in Thailandia perché ormai è sola e decide anche di un po' guardare indietro all'anno che ha passato 12 mesi orribili e allo stesso tempo intensi pieni di adrenalina di sorprese in cui ho scoperto me stessa le mie risorse ero sopravvissuta ma non solo ero ancora in piedi e il libro finisce così con un capitolino speciale intitolato spaghetti al ragù dove appunto lei invita Francesco a cena a casa e dice questo siccome ti conosco bene il primo passo lo faccio io Francesco d'accordo aggiungo una tavolietta e apparecchio per 5 ti metto qua al tuo vecchio posto a capotavola la coppia potrà non esserci più ma della nostra famiglia saremo sempre parte ci basta volerlo facciamo così ora scolo gli spaghetti chiamo i nostri figli e tutti insieme ti aspettiamo a cena verrai non penso però il libro termina così ragazzi e così anche il mio video cosa c'è da dire se voi volevate cioè volevate comprare questo libro per scoprire dei segreti di cui non abbiamo parlato negli spigli indetti in questi anni no lo comprate perché non è questo lo scopo del libro lo scopo del libro secondo me è quello di portarti a dalla parte di Ilari perché se è vero tutto quello che ha scritto qui Ilari lei è passato l'inferno ok e soprattutto Francesco non è che passa molto bene no passa come uno che l'ha sempre avuta vinta che non ha mai dovuto affrontare problematiche nella vita perché c'era sempre qualcun altro pronto a spianargli la strada uno viziato uno che ti fa le ripicchine se non fai quello che dice lui non ci passa un falso tra le altre cose perché hai mentito e anche manipolatore perché vuoi manipolare la mente di tua moglie nonostante sai che stai mentendo insomma in questo libro Francesco Tottini esce distrutto se è uscito e lui non le ha fatto causa evidentemente quello che è scritto qua dentro è successo veramente perché se no io avrei chiamato l'avvocati insomma perché un po' così Ilari Blasi dall'altra parte è impossibile non empatizzare con lei perché leggendo io ve l'ho riassunto più nel parlare di gossip però leggendo queste pagine ovvio c'hai la voglia di sapere oddio e come ha fatto oddio come ha ricevuto questa notizia oddio ma come scema che non ci ha creduto però alla fine ti porta un po' a dire non è che sei stata stupida sei stata innamorata e sei stata troppo magari fiduciosa in un uomo che ti ha preso in giro semplicemente questo se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto tramite commento per oggi è tutto questo video si è fatto attendere però o mi son fatto perdonare spero perché durerà tantissimo se siete arrivati fino a questo punto vi amo siete degli eroi commentate con l'emoticon di un libro e della faccina quella con la goccina qui e ditemi io non ce la facevo più ma ce l'ho fatta vabbè come io che non ce la puo più a parlare infatti sto dicendo strunzè fatto sta ragazzi ragazzi per oggi è tutto spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi abbia intrattenuto mettete quindi mi piace a questo video per sostenermi e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto io non ce la faccio più vi saluto vi vediamo domani ciao